Piano piano, avanti a zio, avanti a zio, bravi, tanti aguri a zio, tanti aguri a zio, tanti aguri a te. Uno, due, tre. Aspetta il doniamo. E' decino. Guarda il telefono. Guarda la foto. Guarda la foto. La soffiamo? Pronti? Uno, due, tre, uno. Guarda la foto. Ecco. Bravi. Una volta? Sì. Guarda la foto. Ricchino. Allora c'è abbiamo stato già sal Paini dal tiro perché phenomenal. Sassate! Beh, ma stai lì. Che è successa? Mamma, soffia insieme a Gaia. Tutti e due, insieme dovete soffiare. Sorridi. Forza. Vieni a casa. Tu la trovi a Gaia domani. Attenti che tutti... Soffiare. Uno. Forza, forza. Uno. Due. Forza. Pronte? Uno. Due. Tre. Forza, raccoppiare. Uno. Due. Tre. Dai, andate. Pure Dedi, forza. Dai, Dedi, dai. Mamma, forza, forte. Dispieti. Pronto. No, no, no.